Mi piace un po'. Cominciamo con il tapping. Prima di lasciarvi al vostro meritato relax voglio parlarvi brevemente di Aboka che sponsorizza questo video. Per chi non conoscesse Aboka si tratta di una healthcare company italiana che da oltre 40 anni si occupa della salute umana andando a studiare e utilizzare le proprietà di alcune piante che coltiva in modo totalmente biologico. In particolare rimaniamo in ambito di relax perché parliamo di Sedivitax, un integratore alimentare che favorisce l'addormentamento. Aboka Sedivitax, miglior riposo, non è solamente l'acronimo di ASMR, non so se lo avete notato ma avoka Sedivitax, miglior riposo. Ma il miglior riposo è ciò che avremo andando a utilizzarlo. Questo perché all'interno di questa boccettina decisamente triggerosa troviamo queste capsule che contengono passiflora per favorire l'addormentamento, valeriana per una migliore qualità del sonno e melissa che in azione combinata con passiflora e valeriana fa sì che durante la giornata si possa essere più tranquilli, rilassati e meno tesi. Questo perché Sedivitax può essere sì un ottimo alleato per l'addormentamento prendendone due o tre capsule, ma è anche ottimo utilizzato la mattina prendendone una capsula per essere più rilassati durante l'intera giornata. Inoltre ormai risaputo, e lo avrete notato sicuramente anche voi, che quando si è più rilassati durante il giorno si arriva alla sera più tranquilli e si riesce a prendere sonno con molta più facilità. Inoltre devo dire che ogni volta che questo botticino è aperto io sono circondato da un profumo veramente distensivo e piacevole. Vediamo se ne riuscite a sentirlo anche voi. Provo a mandarvene un po' virtualmente. Io vi invito a scoprire di più su Sedivitax cliccando sul link che trovate nella info box qui sotto. E ora con la mia capsula di Sedivitax. Mi preparo al mio relax e al mio sonno. Buon relax a tutti voi con aboca. Ciao. Ciao a tutti dormiglioni. Come state? Spero tutto tutto bene. Io sono Luca e in questo video sfiderò me stesso. cercando di fare ogni cosa nel modo più lento, lento possibile. partendo dal whispering fino ai trigger ovviamente. E se mi conoscete un po' sapete senz'altro che per me è una vera e propria impresa. Allora mettiamo da parte gli end sound e movement e passiamo al primo trigger per farvi rilassare, 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 rilassare e cominciamo con il tapping. su questa piccola bottiglia di vetro. Si tratta di un colluttorio. e ha questa bottiglia come potete vedere in vetro opaco. ma a noi interessa poco 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 poco. la lucidità o opacità della bottiglia. la lucidità o opacità della bottiglia. l'ho più possibile. sempre tenendo conto ovviamente dei miei standard. Sapete che se non mi stessi impegnando parecchio per mantenere questa velocità che magari per qualcuno è già anche fin troppo veloce? Beh, io probabilmente lo starei facendo di mio a una velocità tale a farlo sembrare analogo al motore di un aereo al decollo, quindi spero che possiate apprezzare questo mio tentativo di lentezza estrema. Con questa bottiglietta mi sarebbe piaciuto provare a fare anche un po' di rumori del del liquido, del colluttorio che c'è all'interno, ma temo di averne usato troppo poco. Proviamo? forse qualcosina appena appena si sente. Prometto che appena ne avrò usato un po' di più ci riproveremo. oppure comprerò semplicemente degli ice globes, però non è male, non è un suono lento, ma devo dire che non mi dispiace. Ok. Ora passeremo al secondo tentativo di trigger superlento. E io vi invito, se ancora non lo avete fatto, a mettervi comodi, seduti o straiati sul letto, su una poltrona o ovunque siate comodi. e chiedete agli occhi e provate a rilassarvi ascoltando i suoni. il secondo trigger è questa spugna in silicone. anche qui oggi non vi nego che perché che la forza dell'abitudine mi farebbe finire voglia di fare suoni fare suoni ad una velocità una velocità pazzesca ma sto resistendo a questo stimolo ora ora provo a piegarla in questo modo e a scorrere piano 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 potrebbero sembrare quasi dei cringled sounds è innegabile per me che i suoni infatti così lentamente hanno tutto un altro fascino quindi vi capisco perfettamente quando mi dite che a volte faccio i suoni troppo in fretta ora vorrei anche provare a passarla sul microfono non solo nella speranza di zittire il figlio del vicino che urla ma anche per provare a percepire un suono un po' diverso dal solito a me piace molto questa sorta di scoppiettio ho fatto un po' blocchi in realtà è vero però molto merino dai questa spugna ha una superficie geometrica che se guardate da vicino come la sto guardando io questo fa andare in tilt la vista semplicemente e come ultimo trigger andrò a utilizzare questi scopolini sempre sul microfono andiamo a prenderne due andiamo a prenderne due e quindi e quindi andiamo a usare questi due che non sono messi a fuoco ma voi citatevi sul microfono ok vorrei se doveste vedere qualcosa di diverso nell'inquadratura o dicessi qualcosa di strano che magari ho già detto o se dopo questo taglio dovesse esserci qualcosa che non torna nel senso logico del discorso sappiate che non è colpa mia ma ho dovuto stoppare per all'incirca un'ora perché il figlio dei vicini ha deciso che era il momento ideale per fare Indiana Jones e urlare come un matto in mezzo alla strada quindi io ho stoppato tutto in attesa di un momento più tranquillo allora so per certo che stavo dicendo o stavo per dire che il suono di questi scopolini probabilmente piacerà e non piacerà perché mi rendo conto che è un suono molto particolare vorrei provare a usarne due assieme in questo modo così vediamo come esce il suono devo dire che finora ho usato poco sul canale questo trigger quando lo sento in cuffia mentre lo faccio come ora mi sembra sempre molto aggressivo come suono ma poi quando lo sento mentre mondo i video è quasi diverso non so come sia possibile non so come sia possibile oh carino così mi fa pensare all'acqua a voi no però memoria per il luca del futuro sto facendo ruotare lentamente questi scopolini qui sopra la superficie del microfono e mi piace veramente tanto peccato non averlo scoperto scoperto prima mamma mia mamma mia mi piace un po' questo questo probabilmente lo registrerò anche in verticale lo ripubblicherò molto molto presto molto presto su tiktok e sugli instagram perché veramente è uno spettacolo di suono mamma mia bellissimo bene io spero di essere riuscito a superare la prova lentezza in questo video fatemi sapere da 1 a 10 come sono andato a lentezza ok io vi ringrazio per essere stati qui con me in questo video spero lento lento e rilassante rilassante vi ricordo che sul canale ne trovate tanti altri magari meno lenti ma forse altrettanto rilassanti ci vediamo nei prossimi giorni buon proseguimento di rilassante ciao ciao